Cerasuolo a mare nasce con l'obiettivo di far diventare il Cerasuolo il nostro spritz. Così come lo spritz per i Veneti, il Cerasuolo d'Abruzzo deve diventare l'aperitivo principe per la nostra regione. E' anche questo l'obiettivo di Cerasuolo a mare, appuntamento del litorale abruzzese ormai da nove anni. Dal 10 al 12 agosto sul lungomare di Montesilvano ci sarà l'ultimo appuntamento per questa stagione. 40 cantine dislocate sui nuovi lidi aderenti, i quali prepareranno piatti sia a base di pesce che carne. L'evento è stato realizzato con il contributo di Confesercenti Pescara e dell'Associazione Italiana Sommelier. Dunque in ogni punto sommelier e professionisti terranno una breve spiegazione delle etichette in degustazione. L'obiettivo comunque è sempre quello di far ripartire l'economia dopo la pandemia. Sì perché poi Cerasuolo a mare nasce pure con l'obiettivo di fare in modo che la gente frequenti gli stabilimenti balneari. Quindi ha un duplice aspetto. In questo modo stiamo portando migliaia di persone in tutte le città che hanno aderito a frequentare i lidi, a conoscere dei lidi nuovi, a conoscere tratti di spiaggia nuova. Insomma un ottimo mix. Si degusta il Cerasuolo, si mangia un buon prodotto abruzzese e si conosce il nostro territorio della riviera. Siamo ben lieti di presentare questa nuova edizione che siamo certi come le altre riscuoterà successo sia in termini di presenze ma anche per quello che riguarda l'ottimo vino con 40 cantine protagoniste e con intrattenimento da parte di coloro che hanno destinato il loro stabilimento come base per questa bella manifestazione.